va più là ma dove hai visto fuori del letto guarda la mia guarda dove non ti ha scoperto va più là ma non vuoi più là sto fuori del letto e allora che termini sono stronti ma è sto stronti che sta diventando buongiorno 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 sto cazzo buongiorno nooo ma perchè oggi che è o no è venerdì sì 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 è venerdì è venerdì sì 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 si scacco di co... e dopo cosa fa? cosa fa dopo? e gli affanculo nooo fa ma che stai fa? una ciega fa ma c'era andare io fa fa ma... eccola la carcarozzona ora che è tucano guarda fa glu 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 ma buongiorno va via ma perchè? va via bene ma gli ultimi senti? ho appena allestito il mio showroom è la mia prima volta quindi sono super soddisfatto ho fatto un allestimento molto molto bello vedrete subito adesso ve lo mostro guardate che allestimento ecco qui il mio showroom mascherina s di stronzo maia dormimo salsiccetta pecorino sì 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 è venerdì il prosciuttino eccolo qua coccodrillo 00 ognuno può ricevere un numero diverso ecco qua tazza buongiorno un cazzo dei cappelletti guardate tagliatelle cappelletti fate swipe up se anche voi volete un prodotto del mio merchandising anzi oggi siccome è sì 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 è venerdì all'ultimo il contest fino a domenica e un fortunato sta roba io la porto io vuol dire che voi porto anche un po' le salsicce secche adesso vedo fate swipe up tempo fino a domenica swipe ah guardate il salfone nonno si sta a chiamare rispondi ma ma va via ma ma chiamare figurarci ma fettacolo ma il gattone è il tele gattone ah Ah! Ah! Ma... Quello che non fai tu! Che? Scopo! 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 Che stai a fare? Scopo! Scopo! Che stai a fare? 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 Nonno! Nonno! O no? La come lì a porta ma... Ma Arzucchi o no? Ma la rompico io! Vieni! Tu... veramente rilassante... Nonno dorme... La nonna fa la lista della spesa E io sono su YouTube per riguardare le storie di ieri Fate swipe e andate a rivivervi i momenti passati Dorme! Non fa una passeggiata con l'uno? Ma facci tu! Ma chi ti fa? Lui che fa? Dorme! E allora dorme è meglio? Dorme o no? Ma non dorme! Ho fatto degli amici! Poi stai tutto il giorno con gli altri chiusi sulla sedia? Che fai? Ma che sto tutto il giorno? Ma guarda! Adesso per esempio sto qui con gli chiusi! Dormo? Dormo! Perché senti io che parli? Secondo te dormo! Ma che stai a fare? Però senti com'è! Smento la fai che è meglio! Che stai a fare? Che stai a fare? Che facevi? O no? Oh! Le seghe? Le seghe? Fai le seghe nonna maria? No! Mica dorme! Nonna maria! Nonna! Nonna! Non dorme! Non dorme! Non ti riposa gli occhi! Il culo! C'è la fatta tutto! Oggi tu hai le labbra! Come ce le hai? Tutto questo! Non vedi? Se le riposo anche i labbra! Che ti riposo no? Fausti! Oh fame invece! Oh! Ehmè! Mi ha già piaciuto i fritti eh! Che mangia tu? Una figa! Che mangia? Fica! Che mangia? La figa! Una volta c'era un tuo amico! Che mangia lui? La piga! La piga! La piga! La piga! Eccolo! Il boss! Oh! Di qui c'è stata un'altra scrocca! Ma quante scrocca! Chi va sui sedili? Va fai il culo tu! E chi ci porta in giro? No! Ora vi faccio vedere la faccia di chi ha scroccato un'altra spesa! E io vi faccio vedere questa faccia di in testa di cazzo! No! Sì sì! Perché? Perché sei in testa di cazzo! Una bella canzoncina insieme! Ehm! Fammi una canzoncina! Come no! Dai! Quanto sei bellino! Pensa quanto sei bellino quando canti! Ah! So suonare come una cosa! Come una campana! Ehm! E vabbè! Adesso c'è l'autotune! Sì! C'è l'autotune! C'è l'autotune! C'è l'autotune! E' uno stronzo nucleare! No! E no! E' uno stronzo Eric! che io ti portavo s*****e! E veniva più a e tu manca scola! C'è l'autotune! E vabbè! Testa di cazzo! E vabbè! Ma quando era bella giornata scusa! C'è l'autotune! Ah sì? Certo! Fermate! Testa di cazzo! Doppio, triplo! Quadriplo! Guardagli piano! Oddio! Guarda! Che io! Stavo là delle voi fa! Dove siamo? Alle scuole elementari! Eccoci qua! Dove ci andavo da piccolo! Com'ero da piccolo? Ero stronzo anche quando ero piccolo! No! Sì! Ma perché? Eccoci! E tu che stai fa? Stai fare le frittelle! Ma come le frittelle bisogna stare dietro? Eh sì! Tu! Le frittelle sfrittellate le frittelle! Attenzione! Guardate lui come va a vedere subito! T'ho beccato eh! Guarda come stai mangiando! Guarda come stai mangiando! Guarda come stai mangiando eh! Non mi ha beccato niente! T'ho beccato eh! Guarda la cionbata! Guarda stai masticando eh! Maga, che ti fa bene! Vieni! Maga la frittella! Vieni! Vieni! Maga la frittella! Ma parola! Ma parola! Fermati! Guarda come ride! Guarda prepara tanto che devi aspettare da me per mangiare! E' le 7 ancora! Bello! Vabbè! Intanto ho parecchiato! Ma tu! È possibile che sei sempre a pensare a mangiare! Ma che pensi? Ma tu da che pensi? Da che pensi? Eh! Non so io! Per mangiare! Se non mangiare! Allora da mangiare! Secondo te io che penso? Tu che pensi? Ah! Ma non so che pensi tu! Che penso? Non so niente! Da che penso? L'unica cosa della vita è mangiare e trombare! Guardate ragazzi! Questi assisi! Assurdo! Che spettacolo! Fatti tagliare i capelli! E' come no! Dai no! Eh! Boh non amari! Poi fai vedere dove lo tagliare! Ma anche se c'è la lunghe di 17 metri! Poi fai vedere! Questa è tagliare i capelli! Dai no! Tagliare niente! Stop! Va! Non ti vuole! Non ti vuole! Ma la murica che è? Ma tu fatti i capelli tuoi! Capite? Tanto mi devi regalare! Capito? Io vorrei fare un taglio! Ma no! Tipo di qui un pochino no? Una casatina! Lei ti dico io! Porca no! Allora! E' questa! E' mia che c'entra! Ma lui vuole la stafè! Ma mia che c'entra! Ma mia che c'entra! Ma mia che c'entra! Ah! Me compri lo vino di Pasqua? Eh? Me compri lo vino di Pasqua? Oh! Me compri o no? Sì! Comprome lo vino di Pasqua! Sì! Sì! Basta che te le vedi coiù! Oh! Hai mettuto un cazzo tonto per un altro! No! Comprome lo vino di Pasqua! Va beh! Ammannaggia il bambone! Me compri o no? Ma sta buona! Con tu un letto! Basta che me compri lo vino di Pasqua! Con tu un letto! No! Sul letto! Comprome lo vino di Pasqua! E venerdì volge al termine! Pijama è già pisciato mi raccomando! Fate sempre la pipì prima di indossare questo pigiama! Perché sennò se la notte vi dovreste svegliare senza essere già pisciati! Vi piscereste addosso! L'ho detta più o meno bene! Vi volevo ringraziare sempre per i vostri messaggi! Sempre per la vostra presenza! Vi voglio veramente bene ragazzi! Buonanotte e ci vediamo domani per le nuove avventure! Ciao!